Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo video faremo la probabile formazione della Juventus o meglio commenteremo la probabile formazione della Juventus contro la Roma questa è la mia probabile formazione e praticamente mi sono attenuto a quello, a quanto detto da Maurizio Sarri post partita e secondo me sarà molto vicino alla realtà quindi metterà, secondo me, anche perché mi sono dovuto adattare con gli under 23 che sono su Prevolution Soccer in questo video, ma anche gli under 23 che si sono allenati appunto con la prima squadra quindi, Pinzoglio in porta, Beruato a sinistra, Wesley a destra, Rugani e Coccolo questi sono quelli che ho messo io, però poi bisognerà vedere ovviamente Portanova, Peters, Muratore a centro campo, Zanima, Cavrione e Olivieri sembra una follia, ma secondo me veramente Sarri metterà dentro quasi tutta l'under 23 non tutta l'under 23, ma tutti gli under 23 che hanno giocato appunto con la Juve quest'anno per il semplice fatto appunto che la Juve ha bisogno di riposo e gioca dopodomani e insomma ragazzi, cioè gioca domani dopo che ha giocato due giorni fa e venerdì gioca la Champions, quindi sicuramente i giocatori dovranno riposare quindi questa è la mia formazione, ve la ripeto ancora Pinzoglio, Beruato, Rugani, Coccolo, Wesley, Muratore, Peters, Portanova, Olivieri, Vrioni e Zanimacchia forse ci sarà Iguaino al posto dei Vrioni anche se dubito anche di quello, però staremo a vedere ma questa credo che possa veramente essere la propria formazione della Juve contro la Roma scrivetemi la vostra qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale ovviamente e ci vediamo col video post partita, ciao a tutti